che c'è è il supporto psicologico quale classe signore business o litigate la prima grazie da questa parte vuoi l'igenizzante no grazie bene di più per me signora signora non deve sbattere suo marito nella cappelliera non puoi dire a mia moglie come deve sbattermi conosco i miei diritti e ti sto registrando e io sto registrando te per aver registrato lui senza permesso ritiro il vassoio no non puoi ritirare il mio dannato vassoio ai è pericoloso mettere nel meno gli spiedini devo venire là dietro signore torni al suo posto io sono il capitano non fa il gradasso come il ragazzo volante metti giù il sederino e guida questo attrezzo che la do io i passeggeri che litigano vicino ai finestrini noteranno che stiamo sbandando sul panoramico lago di puncher trail aiuto non riesco a muovere le gambe oh odore di gumbo non riesco a muovere le gambe ohut Grazie.